Grazie a tutti Io gli ho detto solo un insieme fa, ma ci vediamo lì Sono stato, come così mi dice, veniamo via, ero alla service, a Valdina, a service, loro sono i distributori della scotta, 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 tutta la roba da moto Ciao Francesco, ciao Kelly Guarda che grossa questa fiora un bianco Ma è gigantesca Ciao Andrea Ciao 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 Grazie. 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 Grazie.